Maturità con due soli iscritti, maestre d'asilo con la laurea, tutti gli insegnanti formati sul sostegno sono alcune tra le più significative novità. Accanto a questo il riordino dell'istruzione professionale insieme a quello sulle scuole all'estero e le norme sul sistema integrato da 0 a 6 anni. Con le riforme il servizio educativo fino a 6 anni farà capo infatti al ministero e verrà gestito dagli enti locali. D'ora in poi quindi l'offerta e le attività dei nidi seguiranno le stesse linee guida in tutta Italia, da nord a sud, senza subire le scelte dei singoli comuni. Per quanto riguarda invece il sostegno per la disabilità, per i futuri docenti sarà necessario avere 120 crediti formativi universitari e non più 60. E tutti gli insegnanti delle varie materie dovranno avere la formazione per imparare ad affrontare i temi della disabilità. Il test in VAL si sparirà anche dall'esame di terza media. I ragazzi verranno giudicati non più con voti numerici ma con le lettere in una scala di valutazione a 5 livelli A, B, C, D, E. Un cambiamento radicale che sarà effettivo non prima degli esami conclusivi del 2017-2018. Ma le novità non finiscono qui. Ci sono infatti all'orizzonte anche la garanzia del diritto allo studio, la realizzazione di un testo unico di norme sulla scuola, la promozione della cultura umanistica. Nelle deleghe al governo c'è anche quella che riguarda il riordino delle scuole italiane all'estero e l'accesso alla professione degli insegnanti. Tema questo assai importante e spinoso, visto che definisce il percorso di studio per diventare docenti e le modalità per entrare in classe. Temi delicatissimi, poiché c'è ancora in ballo il rinnovo del contratto dei docenti.